Sento che abbiamo molto in comune. Sei dei pesci? Sagittario. Allora, mi piacciono i fiori, fare shopping e soprattutto tieniti forte e non seguo il calcio. I fiori non mi dicono niente, ho un abbonamento in curva. Ma io ho il conto Banco Posta! Ma anche io! Nuova carta Banco Posta, anche per acquisti online. Con gli sconti Banco Posta per risparmiare tutto l'anno. Facile incontrarsi in un conto Banco Posta, perché ha tanti servizi per tutti. Aprilo anche tu! Grazie a tutti!